La prospettiva di passare tanto tempo chiusi tra le mura domestiche impegnati in una call di lavoro o didattica a distanza evidentemente ha fatto riflettere molti piacentini. L'esperienza dei mesi di lockdown sembra aver spinto dunque i clienti delle agenzie immobiliari del nostro territorio a un riavvicinamento alla natura anche per poter allargare i confini delle abitazioni diventati improvvisamente angusti. In aumento nelle ultime settimane infatti le richieste di vendita e affitto di casi in campagna e in collina. La tendenza soprattutto di quest'anno è il vivere fuori città e quindi abbiamo sicuramente riscontrato un incremento delle richieste in provincia ma soprattutto in collina, le colline di Piacenza sono le più gettonate. I milanesi l'apprezzano moltissimo e quindi abbiamo un incremento del 50% delle richieste da Milano ma anche da Piacenza soprattutto per la prima collina ecco quindi a massimo 20 minuti dalla città. Non solo provincia, non solo campagna ma anche in città il piacentino vuole un luogo esterno. Sì, chi cerca ancora e scommette nel centro di Piacenza vuole assolutamente uno suogo esterno quindi che sia un giardino, che sia un terrazzo vivibile. Il mercato immobiliare piacentino è pronto ad esaudire questa richiesta? Sicuramente sì in quanto abbiamo a disposizione diversi immobili che prima non erano richiesti e oggi invece lo sono, di conseguenza siamo in grado di soddisfare le esigenze dei clienti. Unitamente al fatto che è un momento sicuramente interessante e propizio per acquistare. Pochi viaggi quest'estate il piacentino preferisce affittare una casa sulle nostre valli. Abbiamo riscontrato in effetti un aumento delle richieste per quanto riguarda le locazioni di immobili prettamente ad uso vacanziero quindi quello che può rappresentare l'alternativa all'albergo e quindi l'alternativa al viaggio all'estero piuttosto che in altre zone d'Italia. La Val Trebbia sembra essere la valle più ambita. Stiamo ricevendo molte richieste per Rivergaro e Travo sia per le prime case che per le seconde abitazioni. Le zone più gettonate sono la Val Trebbia sicuramente in primis. Segue per quanto mi riguarda la Val Nure.